Quando si parla appunto di Miss Sensation, profumerie, non si parla soltanto di bellezza ma anche di intrattenimento ed ecco che a tal proposito iniziamo ad ammirare le ballerine della scuola di Riccardo La Croce Danza che troverete in Via Lucrezia della Valle e intanto ammiriamo le varie esibizioni delle ballerine e tutte le uscite delle Miss, ricordiamo, sono state curate nel dettaglio dal grande maestro e coreografo in persona con esperienza ventennale ricordando infatti ha iniziato come ballerino del corpo di ballo della corrida con il maestro Pregattio su canale 5 ha allestito spettacoli in vari eventi, teatri, coreografie televisive è stato coreografo ufficiale per 5 anni di Miss Italia Riccardo La Croce a cui fa già l'applauso perché è un piacere e un onore per avere artisti del suo spessore anche qui con noi ed è a tal proposito che noi vediamo già la prima esibizione delle sue ballerine con le cancane, gherle e quelle che voi che arrivano, le nostre ballerine grazie a tutti 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 grazie a tutti